Signori buonasera, questa giornata triste, un lockdown, ma in occasione della festa del papà ci siamo regalati qualche piccolo minuto di rilassatezza campagnola, come si usa nelle aie. Abbiamo avuto voglia di confrontare i due cugini della Case. Abbiamo anche un CS120 Case, ma con costruzione Steyer e alla mia destra abbiamo il Mulo, il vecchio Mulo 5140, di costruzione International. Li abbiamo messi come due veri e propri pugili al peso. Abbiamo il CS120, 58 quintali. Abbiamo alla destra il Case International 53 quintali. Abbiamo misurato anche il passo e con sorpresa devo ammettere che il 5140 è quasi 20 cm più corto, quindi in una prova sicuramente rilevante. Non abbiamo infierito per rovinare i mezzi, ma con sorpresa abbiamo visto che hanno tenuto. Sostanzialmente io, proprietario del 120, mi sarei sentito trainato, invece dopo il primo spunto, aggraziato il 120 dal passo più lungo, le macchine si sono stabilizzate, hanno cominciato a ballare, come si dice in gergo. La prova è stata fatta sia sul terreno battuto che sia sul prato verde, anche se scivoloso. Dobbiamo aggiungere altro? Mi dica. Dobbiamo no. Dobbiamo aggiungere altro. Grazie della colpessa attenzione e buona visione. Buonasera, grazie. Grazie. Grazie.